Sì, grazie Presidente, Sottosegretaria, onorevoli colleghe e colleghi. Il provvedimento che l'Aula si presta a votare oggi è un provvedimento di fondamentale importanza ed è necessario per combattere la contemporanea battaglia della crisi sanitaria e della profonda crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Come per gli altri decreti precedenti, anche con questo decreto si risponde ad un patto tra la Repubblica e i cittadini, i lavoratori e le imprese. Infatti nessuno mai aveva chiesto tanti sacrifici e limitato tanto le libertà a cui eravamo abituati in cambio di aiuti per farci trovare pronti quando sarà l'ora della ripartenza. Senza contare le risorse del Next Generation EU, ricordo a me stesso e ai colleghi che sono 32 miliardi dello scostamento che finanziano le misure di questo provvedimento per un totale, se non sbaglio, di 140 miliardi che con i 40 votati di recente dal Parlamento fanno 180 miliardi di euro per sostenere le imprese e i lavoratori che hanno fatto i sacrifici che conosciamo per salvare il Paese. Uno sforzo che non è mai stato possibile prima anche grazie al cambiamento che c'è stato da parte dell'Unione Europea e delle sue istituzioni. Il cambio di governo ha sicuramente rallentato l'approvazione di questo provvedimento. Lo trovo un fatto fisiologico. Questo fatto fisiologico ha sostanzialmente comportato di arrivare soltanto oggi alla conversione del decreto e di queste misure importanti. Rivolgo quindi un appello per la celerità perché è noto a tutti e sono convinto che sia consapevolezza comune che la velocità dei sostegni che devono arrivare alle imprese non è una variabile secondaria per la loro efficacia. Per questo è importante che il Consiglio dei Ministri approvi al più presto il nuovo decreto, il cosiddetto sostegni bis, che potrà adeguatamente integrare e supportare il decreto in discussione oggi, utilizzando appunto gli ulteriori 40 miliardi di scostamento che il Parlamento ha già approvato. Mi viene anche da aggiungere che la difficoltà ad usare al meglio le risorse disponibili è una realtà inevitabile fin dal principio di questa pandemia. Risorse, si sa, per quanto ingenti, restano sempre scarse e insufficienti. Lo dico anche per i tanti che ancora oggi pensano che se ci fossero loro al Governo sarebbe tutto più facile, più rapido, più giusto e infatti lo pensavano anche tanti altri. Detto ciò, voglio sottolineare l'importanza che questo decreto è stato definito sostegni e non più ristori come i precedenti. Penso che il Governo abbia introdotto rispetto ai precedenti alcune misure innovative, più eque e più efficaci. Sicuramente queste misure sono state rafforzate dalle disposizioni che ha introdotto il Senato, segno di quanto sia importante e utile il rapporto dialettico tra il Governo e le due Camere. La questione più rilevante è sicuramente il passaggio dal concetto appunto di ristori da quello di sostegni, che ha profondamente cambiato il metodo di calcolo per gli aiuti alle imprese. Sono stati superati i famigerati codici a teco, un metodo inizialmente necessario per sospendere le attività e poi utilizzato per concedere velocemente i ristori. Occorre evitare ritardi dovuto a questo cambio di metodo di calcolo, ovvero appunto la verifica puntuale del calo di fatturato dei corrispettivi e dei volumi d'affari, considerato in un periodo più ampio, ovvero anno su anno, che ha sicuramente dato a questi aiuti una maggiore equità per sostenere i settori effettivamente più colpiti dalla crisi. Fra i quali, Giova a sottolineare, sono sicuramente il turismo, in particolare quello montano e delle città d'arte, la ristorazione, il settore degli eventi e delle cerimonie, quello della cultura nel suo insieme, il sistema delle fiere, il commercio e tantissimi altri comparti. Fra le misure del presente decreto che il Partito Democratico ha maggiormente sostenuto, sicuramente ci sono la proroga della cassa integrazione e della sospensione dei licenziamenti, il sostegno per chi sia trovato in difficoltà economica e con problemi di liquidità, gli 11 miliardi di euro a fondo perduto per le imprese, autonomi e professionisti, che porta agli aiuti fino al 60% del calo subito, il sostegno per i costi fissi come la riduzione delle bollette elettriche e le varie misure per i contratti di locazione, il sostegno ai comuni montani e alle città d'arte che hanno subito i maggiori cali turistici, i 5 miliardi di euro per rafforzare la sanità e il piano vaccinale, il sostegno agli enti locali per l'esercizio delle funzioni esercitate e non mi sembra, cari colleghi, che questi siano temi che non parlano al Paese. Molte altre sarebbero le misure importanti contenute da elencare, ma la vera domanda da farci è se tutto questo è sufficiente e la risposta inevitabilmente è no. Ed è per questo che il decreto sostegni bis dovrà colmare le lacune e aggiungere le risorse necessarie. Noi siamo a fianco del Governo per questa difficile opera di rilancio del sistema socio-economico del Paese. Il Governo può contare sul Partito Democratico senza se e senza ma. Oggi però non possiamo sottrarci nel mostrare il sostegno al Governo anche per la linea intelligente e responsabile in tema di riaperture. Oggi appare evidente che questa linea del Governo funziona e mostra i primi risultati positivi. È pur vero il proverbio che dice che ogni rondine non fa primavera, però significa che l'inverno è alle spalle e mi pare che anche qualche autorevole Ministro oggi lo abbia fatto notare. Il Governo sceglie di fare riaperture che siano irreversibili, ovvero graduali e basate su istanze scientifiche, ovvero la diffusione del virus e l'avanzamento della campagna vaccinale. E infatti non esiste nessun derby tra gli aperturisti e i gradualisti. Anche noi vogliamo aprire il prima possibile, vogliamo aprire il più possibile, ma senza rischiare di dover tornare indietro. Chi accarezza il pelo del dissenso per trasformarlo in consenso per se stessi, io credo non faccia il bene del Paese e il bene degli italiani. Per fare soltanto un esempio, mi pare di un'evidenza elementare che a tenere lontano i turisti stranieri non sia il coprifuoco, ma ovviamente la diffusione del virus, per cui al rientro a casa loro da una possibile vacanza in Italia dovranno fare, per esempio, una quarantena di 15 giorni. Ecco perché non c'è nessuna opzione tra salute ed economia, ma solo una scelta possibile, la riportenza graduale e irreversibile. Per cui, nel rinnovare la fiducia al Governo, chiediamo a tutta la maggioranza di sostenerlo senza se e senza ma come il Partito Democratico, su tutte le partite per cui questo Governo è nato. La lotta alla crisi sanitaria ed economica in primis, il piano vaccinale che è l'unica vera grande soluzione per un ritorno alla normalità, il piano nazionale di ripresa e resilienza con le necessarie riforme per ottenere quelle risorse fondamentali per il Paese, per cui noi del Partito Democratico ci siamo, con convinzione e senza tentennamenti, consapevoli che solo uniti, anche se tra diversi, possiamo salvare il Paese. Per questo annuncio il voto del Partito Democratico sulla questione di fiducia.